Buongiorno a tutti ragazzi, eccoci arrivati con un nuovo video, qui è Arduino Schenato da iarforex.com e in questo video come puoi vedere ho la piattaforma che utilizzo, solo che come puoi notare qui sopra in alto a destra c'è scritto Turbo24, ovvero questa piattaforma qui non è la classica piattaforma che utilizzo per fare il trading classico sul forex con i CFD ma è la piattaforma sempre del mio stesso broker che però fa utilizzare un nuovo strumento molto molto interessante e che vorrei un attimo così oggi andare un po' più in profondità, farvi vedere anche un po' veramente le peculiarità che ha perché è davvero davvero interessante, si chiama Certificato Turbo24 e devo dire che da un po' ormai lo sto approfondendo oggi ha fatto anche qualche operazione negli ultimi mesi e ha delle particolarità che secondo me vale la pena andarlo a approfondire io non credo sia unico questo video, abbiamo già iniziato una sessione sui social, su Instagram in particolare dedicata appunto settimanalmente a, diciamo chiamiamola così, l'operatività con i Turbo può comunque dare un po' di spunti sui Turbo, sarà uno strumento secondo me che utilizzerò sempre di più nel futuro mi piace veramente molto e le peculiarità che ha in linea di massima sono il fatto che è praticamente aperto 24 ore su 24 quindi in linea di massima non cambia diciamo quello che facevo già con i CFD è uno strumento listato, uno strumento quotato, quindi assolutamente trasparente e la cosa interessante è che ha una leva variabile in base al rischio che si vuole prendere e quindi in base anche un po' all'aggressività che si vuole avere sul proprio, su quel trade in particolare perché poi non tutti i trade sono uguali e quindi possiamo anche definire come sempre un pochino la soglia che vogliamo andare di leva, che vogliamo andare a utilizzare e non per ultimo una cosa, una chicca per me che spesso sto dentro più giorni sul mercato è che non ci sono costi overnight ma poi vi spiego il perché allora intanto vi faccio vedere la cosa interessante a mio avviso che ha questo tipo di strumento è che il certificato tendenzialmente si compra cioè non è un qualcosa che tu lo vendi se vuoi andare short o lo compri se vuoi andare long tu lo compri, lo compri dei certificati long o short in base appunto alla direzione che si vuole avere questo qui per esempio è il mercato americano per eccellenza, l'S&P 500 quindi il paniere più importante borsistico americano e come potete vedere se volessi, questo è il solito grafico giornaliero, questo è il settimanale come vedete a me piace sempre avere una visione un pochino più ampia di quello che è il mercato ecco, se volessi andare ad avere un posizionamento long su questa zona perché ritengo che su questa zona possono esserci presupposti mettiamoci bene il livello, eccolo qua su questa zona, prendiamola bene ok su questa zona siamo tra i 3.000 e i 2.950 potrebbe esserci un posizionamento long nel futuro allora io posso già decidere di andare, guardate, a vedere un pochino quali sono le barriere adesso vi spiego bene allora facciamo, diamo per assodato che io sto tradando e mi trovo per esempio in questa zona o anche in questa in realtà facciamo giustamente, facciamo questa mettiamo che tra l'altro ci sono oramai le elezioni americane che stanno per arrivare quindi può essere che i mercati aumentino un pochino la volatilità benissimo, sapete che io faccio price action quindi non vado ovviamente a non vado a fare congetture di quello che può essere il mercato pre-elezione, post-elezione, chi se ne frega, guardiamo il grafico però questo può scatenare volatilità può scatenare ovviamente dei movimenti tant'è che questi tipi di eventi come le elezioni per esempio in questo caso americane sono definiti proprio un market mover cioè un qualcosa che va a muovere il mercato allora guardate, facciamo l'esempio che su questa zona importante avvenga uno dei miei segnali long tail, pin bar, last kiss, l'ultimo bacio insomma, qui siamo di fronte a un setup benissimo, siamo di fronte a un setup di questo tipo ora lo ridisegno per farvi capire un po' la situazione e che cosa può avvenire ok, metti caso che venga fuori una cosa del genere e che io voglia impostare un ordine sulla piattaforma guardate che bello io praticamente a parte che se clicco K sulla piattaforma guardate vediamo se riesco a farlo eccolo qua vedete? mi vengono fuori tutte le barriere tutti i knockout praticamente esistenti su questo adesso vi spiego cosa significa perché per chi fa ecco qua per chi fa ovviamente CFD o altro insomma può essere un po' strano allora andiamo a vedere guardate vedete che se io vado sopra questo è sto andando sui long non sto andando sugli short gli short hanno un certo tipo di knockout livello KO e i long un altro livello di knockout eccolo qui guardate qua quindi praticamente io ho assolutamente una lista immensa di livelli proprio di knockout metti caso che io abbia un setup di questo tipo e guardate per esempio 3143 leva 21 andrebbe proprio sui minimi metti caso che io voglia stare un po' più ampio con il mio investimento anche un pelo più ampio ecco qua quindi voglia una volta che ho questo setup comprare l'indice americano perché penso in una sua risalita e quindi vado a investire con una barriera a 3084 eccola qui che è abbastanza più ampia del livello di minimo del settimanale e voglia investire quindi posso decidere se tra l'altro usare degli ordini pendenti limite quindi su dei movimenti di swing durante la settimana che può anche essere molto interessante quindi non entrando subito a mercato ma cercando un lieve di tracciamento con una barriera molto ampia 3084 quindi lasciando molto spazio dal minimo si può anche lasciare un po' più spazio se si vuole eccolo qui per esempio però facciamo 3084 benissimo questo come potete vedere leva 15 3084 io posso comprare X certificati con questa leva cosa faccio? clicco vedete? oh benissimo cliccando mi si viene proprio a creare il tipo di setup a livello proprio di ordine quindi posso dirgli se è un ordine eseguito sul mercato subito direttamente boom oppure un ordine limite quindi un ordine più basso del livello attuale del mercato e gli darò la mia quantità quindi io guardate posso anche comprare un contratto un certificato e un certificato turbo in questo caso avrà un controvalore come potete vedere di 2,21 euro che cosa significa? oh qui è la differenza più importante diciamo tra quello che spesso siete abituati a fare con il CFD e quello che invece sono questi certificati mentre con il CFD voi avete un margine che vi permette di muovere X soldi quindi usate la leva in quel modo e quindi per esempio potremmo avere un margine qui facciamo un esempio di 1000 euro quindi una richiesta di margine di 1000 euro per andare poi a avere uno stop loss magari di 200 euro quindi ho un margine di 1000 euro cioè i soldi che almeno devo avere in piattaforma per fare questo trade e uno stop loss quindi un massimo rischio di 200 euro in questo preciso caso invece con i certificati io non ho non c'è più la questione del margine ma c'è esclusivamente l'investimento che uno fa quindi io voglio investire su questo trade i 200 euro o 500 euro o 100 euro o addirittura 2 euro e 20 quello che è cioè il minimo posso farlo quindi facciamo esempio su questo su questo possibile deal magari che mi esce sulla piattaforma sul mercato voglio andare a investire 300 euro quindi andrò a aumentare vedete andrò a dirgli benissimo facciamo così aggiungiamo vedete vi dice tutto oh guardate con 135 certificati turbo io avrò un controvalore della mia posizione quindi un investimento su questa operazione di 305 304 posso anche andare un po' più giù se voglio posso anche andare a prendere ecco 300 perché poi ovviamente c'è una lieve tolleranza ovviamente di movimento però facciamo 133 certificati pari a circa un investimento di 300 euro quindi io più di quelli non perdo cioè il mercato inizia a muoversi mi esegue dopo due settimane mi va e va a toccare l'area knockout io avrò perso quei 300 euro cioè il mio investimento si dice va a zero non avrò più quei 300 euro e rispetto a diciamo il CFD dove se non ho uno stop garantito e uno stop loss normale potrei subire il fattore slippage quindi potrei subire dei movimenti più ampi del mercato che non vengono presi in considerazione dal livello di stop loss e quindi andrei a perdere un po' di più nel caso del knockout dei certificati quello è e quello rimane quindi più di quella cifra lì non posso andare a perdere diciamo quindi il knockout sarebbe un po' come uno stop loss chiamiamolo così garantito quindi non posso mai anche se c'è un evento totalmente avverso tra il venerdì e il lunedì dove il mercato apre in un gap enorme sotto il mio livello quindi sono entrato su quest'area facciamo vedere un po' sono entrato qui e il mercato magari è qui a fine settimana e c'è un evento avverso e per questo motivo lunedì mattina il mercato apre qui può succedere questa cosa può succedere io con un cfd verrò eseguito qui perché io vengo eseguito al meglio del miglior prezzo sul mercato più vicino ovviamente al mio livello di stop che ho dato come stop mentre con il certificato nel momento in cui durante il mercato aperto quindi durante il momento di mercato di quel mercato aperto andrà a prendere quel livello quindi avrò in questo caso l'esempio 500 quindi tra le tre e mezza e le dieci di sera avrò il tocco di questo livello verrò eseguito e quindi praticamente uscirò dalla posizione col mio rischio di 300 col mio investimento che avevo investito prima cioè con i miei soldi che avevo investito quindi sicuramente molto molto interessante perché in questo modo devo dire che è assolutamente interessante soprattutto per quanto riguarda il mio metodo perché il mio metodo non è fatto di operazioni che durano qualche ora il mio metodo è fatto di operazioni che durano solitamente qualche giorno qualche settimana e quindi i grafici settimanali per noi sono molto per me sono molto importanti i grafici mensili i grafici settimanali i grafici daily sono i grafici lo sapete i time frame che utilizzo di più quindi un tipo di operazione di questo tipo è sicuramente interessante e con i certificati turbo potete ben capire che è assolutamente top perché poi c'è un'altra questione che è l'ultima che vi dicevo prima ve l'avevo un attimo accennata non c'è costo roll over overnight non c'è quel classico spesso costo che abbiamo quando stiamo a mercato più giorni in questo caso il costo che avremo diciamo subito per stare a mercato in questo caso va a inserirsi diciamo nel livello di KO quindi se io sono lungo e metti caso che con la stessa size con un CFD ogni giorno pago un euro facciamo esempio tra roll over presto titoli quello che è io praticamente qui avrò un rialzamento lieve del knock out fin quanto sto a mercato ecco che il mio consiglio infatti è quello di dire bene se la mia uscita vuole essere all'incirca sotto i minimi di un setup per il long perché lì viene diciamo invalidato il segnale viene fallito il segnale a quel punto è meglio tenersi magari 2KO più sotto così da lasciare voglio se la mia idea è quella di rimanere a mercato magari più tempo di avere un knock out un livello knock out bello ampio bello lontano che ci permetta di fare ossigenare la posizione di non essere preso da stop stupidi che a volte insomma ci sono quindi questo era un po' quello che volevo dirvi sicuramente farò altri video su questi strumenti perché devo dire che io mi sto veramente piacendo e mi sto divertendo anche a guardare un po' il tutto e a queste particolarità che ripeto per la mia metodologia per il mio approccio al trading sono veramente veramente toste sono veramente particolari e veramente ottimali se mi chiedete come fare per approfondire l'argomento di turbo 24 vi lascio il link in descrizione del video dove potete andare sul sito e quindi approfondire il turbo 24 quindi per oggi è tutto se volete lasciare un bel commento anche per discutere di questi strumenti su cui sicuramente farò altri video potete scrivere nei commenti lasciare un bel like e soprattutto iscrivervi a questo canale se ancora non lo siete grazie un saluto a tutti buon trading simple alla prossima